non era un ultimatum ma un tentativo di rispondere alla vulgata per cui la vicenda copa sirsia questione tra la lega e fratelli d'italia se fosse stato così avrei aperto il tema di tutte le commissioni di garanzia che per prassi vanno all'opposizione ma non è questione di poltrone è un problema tra maggioranza e opposizione è rispetto di alcune norme di equilibrio delle nostre istituzioni così la presidente di fratelli d'italia giorgia meloni commentando la lettera aperta rivolta al leader leghista matteo salvini sulla presidenza del copa sir a margine di un convegno e ha aggiunto l'ho fatto pubblicamente per non derubricare la vicenda alla difficoltà di rapporti nel centrodestra il problema non è quello della vicenda deve rispondere tutta la maggioranza grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti